Ah, il centro. Sono passati tanti anni, ma da dove posso cominciare? Beh, partiremo dal principio. Era una giornata come un'altra a Pevoniaga. Quando girovagando senza meta, decisi finalmente di visitare il centro culturale. Il centro culturale Livia a votare di Milani. Prima volta? E così ebbe inizio la mia più grande avventura. Grazie. Grazie a te. Ciao. Chi sei? Io sono Anna, non spaventarti. Se vuoi qua dentro puoi mettere il tuo zaino. Grazie. Prego. Volevo gustarmi l'ultimo video di Young Signorino quando accanto a me notai un volantino. Non hai fatto la richiesta. 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 Devi fare la richiesta. Devi fare la richiesta. Richiesta. Devi fare la richiesta. Devi fare la richiesta. Grazie a tutti. Ciao! Vuoi visitare il Museo Cibico di Vergoniaga? Basta chiedere. Benvenuto! Cosa le è successo? Non hanno fatto la richiesta. Cosa le è successo? 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 Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Aspetta. Jasco. vraiment. La sotto il sole all'orizzonte E' dietro le quinte? Ci sta? Oh nessun film Ah, dietro le quinte ci sono le quarte in realtà Ah, com'è che fa? Ciao Vuoi visitare il museo Cilico di Pagognac? Basta chiedere E' un po' di messa Oh Che stiamo facendo il backstage? A Zekiele? 25-17 E' backstage Sì, le quinte con il mio talento Daniele, in solitaria, come solo i veri attori fanno, in solitaria si prepara per la parte Qua c'è il bel visino Io sono più bravo Sono Anno, non spaventarti Se vuoi tu Ciao Ciao Non spaventarti Se vuoi tu Ciao Ciao Sì, attenti Allora mi volete male, eh? Io sto soppresa qua dentro e poi... Ehm Che altri, prima di te Hai scoperto i segreti del centro culturale? L'uomo più negligente del mondo Voglio darti un indizio Signora Andrea, prego Ciao 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 Ciao